L'intuito mi dice che un possibile passo alternativo a quelli prima descritti è la luna. La luna è un ritorno al passato, secondo me non lo è. La luna è vicina, è raggiungibile, abbiamo dimostrato di saperci arrivare, il potenziale della luna è tutto da scoprire. Roberto Vittori ne è ancora convinto. La luna è un obiettivo credibile, nonostante prima Obama e poi l'amministratore della NASA Boden, alla vigilia dell'ultimo volo dello shuttle Atlantis abbiano ribadito di puntare a Marte e prima forse agli asteroidi. Vittori lo ha detto a margine della conferenza stampa nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana con Paolo Nespoli, anche lui reduce da una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. La conferenza, presente il presidente dell'Asis aggese, si è svolta dopo l'incontro dei due astronauti dell'ESA con il capo dello Stato napolitano, a cui hanno riconsegnato la bandiera tricolore portata nello spazio. E proprio parlando di tricolore, Vittori ha concluso l'incontro con la stampa. Vedo noi come italiani come una realtà a volte piena di alti e bassi contraddizioni, ma con una fortissima dinamicità e creatività. Secondo me questo è fondamentale per il futuro dello spazio. E quindi ogni volta che ho avuto opportunità, il tricolore l'ho sempre portato non soltanto fisicamente con me, ma anche nel cuore. Media INAF Il notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica